Le situazioni internazionali e l'attuale congiuntura socio-economica della Bolivia con speciale considerazione per le politiche sociali sono alcuni dei temi affrontati nel colloquio tra Papa Francesco e il Presidente dello Stato plurinazionale di Bolivia, Evo Morales. Nel corso della visita, rende noto la Sala Stampa Vaticana, ci si è soffermati sulle relazioni tra la Chiesa e lo Stato, evocando la lunga tradizione cristiana del Paese e il decisivo contributo della Chiesa alla vita della nazione, riferimenti anche a questioni di comune interesse quali l'educazione, la sanità e l'aiuto ai più poveri.